Sono super emozionato perché oggi è un giorno speciale. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dell'estate. Finalmente, festeggiamo, finalmente perché è stata veramente dura. Sono contento per Catalin perché se lo merita, lui si è sempre sentito italiano. Essere italiano significa poter partecipare finalmente con la maglia che mi rappresenta e posso rappresentarla finalmente da oggi e poi posso rappresentarla. Io lo seguo da quando lui era allievo secondo anno e la sua progressione è stata costante. Ricordo che il miglior prestazione sugli 800 era di 1,55 e 19. Ogni anno è riuscito a limare un secondo, un secondo e mezzo, fino ad arrivare quest'anno all'1,44 e 93, che lo sta collocando in questo momento al 25esimo posto del ranking mondiale. Miglior prestazione in Italia. Sono molto felice che finalmente questo ragazzo ha potuto avere la cittadinanza italiana e può gareggiare col tricolore. Vi auguro una stagione prossima in maglia azzurra, sicuramente e soprattutto di grandi successi perché si rimerita perché ha fatto anche delle scelte di vita particolari per allenarsi sempre di più e meglio. È arrivato nel momento giusto. Quest'anno, per fortuna, sono riuscito a dare continuità agli allenamenti. Sono cambiato un po' di testa quando entro in gara, non ho più paura. Sono lì che sono motivato al 100% e vado in gara sempre per vincere. Sì, sì, è arrivato nel momento giusto. È arrivato quest'anno e spero di fare un passo ulteriore in avanti nei prossimi anni.